Lick, ben ritrovati i miei cari avventori dell'Ugione a Barcaccio, ce lo stavamo proprio chiedendo in questi giorni, in queste ore e evidentemente il nostro carissimo, il nostro carissimo Takehiro Tomiasu ci ascolta e questa ne ho la prova perché ci ha risposto, tutti ci chiedevamo ma è vero o non è vero, ma è vero o non è vero che Tomiasu voglia andarsene da Bologna ci risponde direttamente la fonte più ufficiale di tutte, ossia Takehiro Tomiasu, difatti avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che sono state scovate dall'intelligence, dall'intelligence appunto giornalistica solamente in queste ore e testualmente recita il Takehiro Tomiasu, penso che la Premier League sia un ottimo campionato una realtà in grado di implementare le possibilità di crescita di un calciatore se c'è una competizione di così alto livello mi piacerebbe provarla queste le parole del calciatore che a quanto pare le avrebbe pronunziate direttamente dal Giappone c'è scritto e se appunto si va a analizzare quanto dice non è che siano delle grandissime parole nei nostri confronti perché ribadisci il fatto e quindi quello che io andavo a supporre cioè vi dicevo proprio stamattina non più tardi se si rimbalzano le voci prima di Tottenham, West Ham, Arsenal e adesso addirittura sembra anche il Leicester City è perché il suo procuratore sta andando in Premier League ad offrire il calciatore e qualche squadra evidentemente chiede informazioni che sarebbero appunto le squadre poc'anzi dette poi sappiamo tutti quello che Bigon disse qualora dovesse arrivare l'offerta rinunziabile Tomiasu partirebbe facendo capire che 25 milioni accontenterebbero sia il club e sia la volontà del calciatore volontà del calciatore che di fatti vi ho appena raccontato citando le sue testuali parole quindi se più di così cosa si voglia ottenere io non lo so è ovvio che Tomiasu a questo punto se ne voglia andare al che bisogna ai noi accettarlo e accontentarlo ed è qui che io dico sempre sfruttiamo questa situazione che certamente non è ottimale ma cerchiamo di sfruttarla con delle idee con delle idee, con le giuste idee per riuscire a ottenere comunque qualcosa di buono perché se comunque dovessero entrarci 25 milioni di euro con questi soldi si possono fare molte cose ma bisogna avere le idee bisogna avere le idee ad esempio ti entrano 25 milioni di euro perché stai cedendo il tuo titolare destro secondo me è un pazzardato andarne a spendere potenzialmente 9 per andare a acquistare un centrale dove già precedentemente ne spesi 6 per prendere Bonifazi cioè noi abbiamo la magia di andare a spendere dei soldi e di continuare a avere la crisi in quel settore in teoria una squadra come la nostra va a spendere 6 milioni di euro per un centrale uno dice oi boh il reparto centrale tutto sommato non deve più essere rappresentare ok il ruolo se non altro dove andarci a smenare troppi soldi beh noi invece riusciremmo ad andarne a smenare potenzialmente altri 9 per andare a prendere il Tiat e avere ancora la falla sulla destra perché è impensabile giocare con De Silvestri e Mbaye Mbaye è impensabile è impensabile io mi rifiuto categoricamente di pensarlo quindi bisogna avere le idee si deve anche cercare di variare quello che in origine avevi progettato non è che se ti cambiano le variabili attorno te continui col tuo paraocchi a fare quello che avevi intenzione di fare perché le situazioni cambiano le situazioni mutano e bisogna riuscire a modificarsi ok nel mutare di queste ad esempio una situazione che starebbe mutando e che a quanto pare è un sondaggio che Giuntoli in nome del Napoli sta facendo in queste ore al Bologna Football Club perché sappiamo tutti loro avere un problema con Lorenzo Insigni in quanto scadrà il suo contratto a giugno 2022 non vuole rinnovare quindi il presidente Aurelio De Laurenti si è dato mandato di cederlo perché vuole comunque capitalizzare qualcosa e non regalarlo a zero il prossimo giugno e starebbe per l'appunto Giuntoli che è il DS del Napoli sondando alla fattibilità di portare a Napoli udite udite io non ci credo mi sorride il culo se ci penso Andreas Skowolsen mi sorride il culo Andreas Skowolsen evidentemente il Napoli non si ricorda più il pacco che gli rifilam ok con Diavara vuole bissare e sta chiedendo Skowolsen a quanto si legge appunto da arianapoli.it che ne hanno riportato la notizia dove appunto c'è scritto che piace al Napoli perché è giocatore molto duttile e giovane e che può oltre che essere impiegato sulla fascia destra anche a sinistra quindi per questa duttilità sarebbe preferito a Orsolini perché sapete che precedentemente erano interessati ad Orsolini quelli del Napoli adesso virerebbero più su Andreas Skowolsen e c'è scritto sempre in questo articolo che il Bologna per rivenderlo visto e considerato la cifra spesa adesso vado a memoria mi pare qui c'è scritto 7 milioni ma se mi ricordo bene in realtà sono 6 6 e mezzo al massimo non mi ricordavo che si fosse arrivati a 7 milioni comunque c'è scritto che almeno il Bologna ne vorrebbe 15 15 c'è anche qua magari io dico magari ce ne danno anche 13 ma subito 12 subito 11 wow subito 15 ma è una roba che io dico dove devo firmare firmo anche i glutei le natiche entrambe ok di giuntoli io ti firmo una guancia e anche l'altra te la bacio anche te le bacio guarda se tu mi porti via Skowolsen per 15 milioni di euro io ti bacio le natiche quindi e anche qua volevo dire cioè solo perché è giovane in realtà in realtà se uno vedesse le partite del Bologna vedete come per carità si fermerà ad essere una butade senza fondamento ma puttiamo caso che abbia fondamento puttiamo caso che Napoli si è interessato veramente a Skowolsen due sono le cose o non hanno mai visto una partita del Bologna perché basterebbe guardare le partite del Bologna per capire Skowolsen che 15 milioni non li vale oppure oggi ed è un mio sospetto il mercato si fa guardando non so neanche io che guardando le statistiche guardando quanti anni abbia un giocatore e pensando alla futuribilità poco importa se poi non rispecchia tecnicamente o mentalmente sul campo quei valori sembra che si guardi a questo perché io pensare di vendere Skowolsen per 15 milioni di euro dopo che a Bologna a parere mio non ha dimostrato ancora niente a me sorride il culo a me sorride il culo e dico magari dico magari provate a pensare non so si cede Tomiasu perché a questo punto secondo me è anche controproducente mantenerlo in rosa 25 lì più eventuali 15 qua ragazzi noi con 40 milioni di euro ma ci rifacciamo la squadra ci rifacciamo la squadra e vorrei non vedere a questo punto entrare dei giocatori tipo che ne so un Zappa o anche lo stesso Tiet magari lì ci hanno visto il nuovo il nuovo Giuseppe un nuovo non so neanche io chi posso dire il nuovo Maldini il nuovo Paolo Maldini ci hanno visto in quel Zugador lì che sono quasi disposti inclusi i bonus a spendere 9 milioni che a me sembra una cifra totalmente fuori dai coppi sinceramente anche perché sul giocatore non mi pare che ci siano squadre di un certo spessore se non in Colonia in Germania e comunque sì è giovane ma dovrebbe avere eventualmente tirato l'interesse anche di tantissimi club laddove fosse Paolo Maldini è qua che mi viene un dubbio allora se non è Paolo Maldini andare ad acquistare un giocatore tra l'altro difensore per un totale quasi si potrebbe essere di 9 milioni tu devi anche metterti nell'ordine dell'idea che puoi cederlo in futuro tu che ti chiami Bologna e che sei senza coppe per farci una plusvalenza ma devi incominciare avendolo a delle cifre importanti e non è sempre semplice vediamo con Tomiasu ad esempio cioè magari sarebbe anche più agevole laddove si investisse per giocatori del reparto offensivo che di solito vanno a cifre superiori questo è una domanda sinceramente un'altra delle tante domande che mi pongo comunque comunque le notizie quindi sono due che vi do in questo in questo video mi cari eventori ripeto la prima è il Tomiasu che ha tirato giù la meschera e ha pronunziato le parole che ci stavamo tutti chiedendo ossia della sua volontà di voler provare il campionato di Premier ah ecco cosa volevo dire mi ha destato un attimo scalpore leggere perché là ci sono possibilità di crescita per un calciatore quasi come se avesse capito che qua a Bologna crescere non si può in questa società io l'ho inteso un po' anche così e detto fra noi obiettivamente non ne avrebbe tutti i torti ok perché perché è una squadra piena di giovani lui ha anche bisogno di allenarsi con dei campioni per questo ok poi magari mettici che in panchina magari non riconosce una leadership tattica al sinistre tale per cui appunto riuscire a dare di più di quello che non sta già facendo e abbiamo fatto la frittata mettici in più che ha capito la dirigenza come vuole operare e che obiettivi ha il prossimo anno e abbiamo fatto il polpettone ok quindi questa è la prima notizia la seconda notizia che vi ho raccontato appunto è Scovolsen che sarebbe entrato nelle mire del Napoli per 15 milioni di euro si parla mi sorride il culo mi sorride il culo io vi lascio così che mi sorride il culo io prego vado a pregare che sia così ok mi vado vado a pregare davanti a una boccia di Barbon Whiskey ok fate così anche voi mi cari eventori fatemi sapere che cosa ne pensate sia del Tomiaso delle sue parole a questo punto cosa fareste e sia di un'eventuale cessione dello Scovolsen al Napoli per 15 milioni di euro ditemi che cosa vi sorride attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luigiona Barcaccio di nuovi video iscrivetevi condividete lasciate sempre un mi piacino ai video di Luigiona e noi ci sentiamo alle prossime chiacchere da bar